Polygon è uno dei progetti capito più eccitanti andando nel 2023. Il progetto è diventato come uno di quei coltellini svizzeri multiuso per risolvere tutti i problemi di scalabilità di Ethereum. Da 2020 al 2022 Ethereum ha superato la soglia di un milione di transazioni giornaliere. Però a questo punto, per evitare problemi di congestione, integrare utenti e traffico, Ethereum ha deciso di implementare più blockchain layer 2, tra cui Arbitrum, Optimism e Polygon. Ho studiato il progetto a fondo e sono cambiate moltissime cose da quando ho fatto questo video nel 2021. E quindi in questo video cercherò di spiegare il perché Polygon potrebbe essere un'ottima opportunità per il lungo termine. Iniziamo subito con una piccola sintesi di Polygon. Polygon è stato fondato nel 2017 da 4 ingegneri informatici con l'obiettivo di risolvere i problemi di scalabilità di Ethereum. Matic era il nome iniziale del progetto, ma nel 2021 è stato rinominato a Polygon, convertendosi così in un progetto per creare soluzioni di scalabilità. Il progetto utilizza diverse soluzioni per rendere Ethereum più scalabile, sidechains, ZK rollups, diverse soluzioni ibride di scalabilità e plasma chain. Per comprendere l'importanza di Polygon bisogna sapere la differenza tra blockchain layer 1 e blockchain layer 2. E semplicemente parlando, le blockchain layer 1 sono l'infrastruttura o la rete principale su cui vengono confermate e finalizzate le transazioni. Una blockchain layer 2 è un'estensione della blockchain layer 1 che lavora in parallelo o in modo indipendente con la rete principale o la blockchain principale. Il bisogno di questo tipo di blockchain layer 2 nasce per via del trilemma delle blockchain, un concetto che dice che le reti decentralizzate possono agevolare solo due dei pilastri di questo trilemma, scalabilità, decentralizzazione e sicurezza. La blockchain di Ethereum è relativamente decentralizzata e sicura, ma manca il fattore di scalabilità, un problema che stanno cercando di affrontare da anni ormai, che rende la rete di Ethereum limitata in termini di TPS, creando congestioni della rete e commissioni di transazione assurdamente alte. Senza scalabilità, Ethereum non potrà mai competere con i sistemi centralizzati di pagamento e quindi si introducono le reti layer 2 per risolvere questo problema. Polygon è una blockchain proof of stake che utilizza Plasma Chain, delle blockchain più piccole che possono lavorare in parallelo con la blockchain principale. La differenza principale di questa architettura è che i blocchi confermati verranno pubblicati sulla rete principale di Ethereum. Questo è un metodo per alleggerire il carico che è presente sulla rete principale di Ethereum. Il token attivo della rete di Polygon è MATIC, che viene utilizzato per mantenere la sicurezza della rete, pagare commissioni di transazione e governance. Una delle implementazioni più importanti è ZK Rollups o Zero Knowledge Rollups, che raggruppa diverse transazioni layer 2 in una singola transazione off-chain. Questo vuol dire al di fuori della blockchain tramite uno smart contract. ZK EVM verrà messo in moto il primo o secondo trimestre del 2023. Polygon sta attivamente sviluppando una suite di ZK Rollups per aumentare la portata o carico di traffico su Ethereum senza sacrificare decentralizzazione e sicurezza. Ethereum otterrà grandissimi benefici se Polygon riuscirà a implementare con successo queste funzioni di scalabilità. Secondo Coindex e Electric Capital, Polygon risiede al sesto posto come numero di sviluppatori attivi messo a confronto con altri progetti cripto. Risiede al terzo posto come numero di indirizzi unici ed è su del 44% rispetto all'inizio del 2022. E secondo il reso conto di Electric Capital nel 2021, Polygon risiede al decimo posto con un incremento del 136% in termini di crescita totale degli sviluppatori mensili. L'attività degli sviluppatori è una metrica super importante per la performance di un progetto cripto perché sono gli sviluppatori che costruiscono le applicazioni decentralizzate che utilizzeremo in un futuro. Si può intuire il futuro di un progetto cripto osservando queste metriche perché il capitale o fondi raccolti portano sviluppatori, gli sviluppatori creano le applicazioni, le applicazioni attirano utenti, gli utenti effettuano le transazioni sulla blockchain, il valore della blockchain cresce per via del traffico e infine abbiamo un movimento naturale del prezzo guidato da adozione. L'idea di avere un settore di EFA è stato avviato in modo concreto attorno al 2017 e 2018 da Ethereum che voleva spingere gli sviluppatori a creare qualcosa di nuovo che potesse rimpiazzare il sistema finanziario tradizionale e infatti nel 2020 abbiamo avuto DeFi Summer, una fascia temporale dove sono state rilasciate diverse dApp DeFi come Compound, Yearn Finance, MakerDAO e molti altri ancora. Da questo esempio potete capire che ci vuole tempo per costruire un futuro decentralizzato e gli sviluppatori sono la chiave di questo movimento. Polygon è compatibile con 337 protocolli DeFi con un TVL di 1,05 miliardi di dollari. Questo vuol dire che Polygon è al terzo posto per compatibilità di protocolli DeFi e al quarto posto per TVL. Il 50% del TVL di Polygon proviene da tre applicazioni decentralizzate principalmente. Aave, una piattaforma per prestiti, QuickSwap, il DEX più grande dell'ecosistema e Uniswap, un altro exchange decentralizzato. Polygon non ha solo un team incredibile di sviluppatori e una vasta gamma di progetti DeFi ma per via della sua scalabilità moltissimi progetti NFT e gaming vogliono assolutamente lavorare con questo progetto. Inoltre c'è una grandissima lista di giochi Play2Earn in processo di sviluppo e verranno introdotti al pubblico nei prossimi due o tre anni. Il settore gaming è immenso e penso che sarà il settore che porterà la prima ventata di adozione per le criptovalute. Moltissime aziende vogliono portare i propri giochi su Polygon perché è una delle migliori blockchain per sostenere le performance di questi videogiochi. Polygon è così appassionato del settore gaming NFT che hanno deciso di aprire un reparto esclusivamente dedicato al gaming chiamato Polygon Studios un progetto che ha un fondo di 100 milioni di dollari per sviluppare progetti gaming su Polygon. Ovviamente questi progetti cripto come Polygon non possono vivere solo in un universo digitale, magari in un futuro ma in questo momento si devono collegare a brand e marchi popolari nel mondo reale perché devono estendere al massimo la conoscenza di questo settore. Polygon lavora con i migliori brand al mondo e come potete vedere lavorano con Nike, Prada, Coca Cola, Mercedes Benz, Amazon e Ebay e questi non sono neanche tutti i brand, è solo una piccola fetta di tutte le partnership che hanno acquisito nel tempo. Persino Disney, sì, proprio Disney, l'azienda che ci ha fatto emozionare con film come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Nemo eccetera eccetera ovviamente ragazzi questi sono i film che ho guardato da piccolo però sì, Disney ha avviato un programma chiamato Disney Accelerator un progetto disegnato per aiutare diverse aziende a costruire un futuro con esperienze immersive focalizzandosi su tecnologie come la realtà aumentata, i token non fungibili NFT e i personaggi con intelligenza artificiale. Polygon sarà uno dei migliori progetti cripto nel prossimo mercato a rialzo l'ho ripetuto più e più volte nel video che ho realizzato nel 2021 che Polygon sarebbe diventato un progetto fondamentale per la longevità di Ethereum e da quando ho realizzato quel video i risultati sono piuttosto positivi. Che dite? Questi non sono consigli finanziari, questo video è stato fatto a fini di ricerca link nella descrizione per le chiavette e ledger per mettere al sicuro i vostri crypto asset iscrivetevi a questo canale, mettete un bel mi piace a questo video e grazie per aver prestato attenzione. a questo video